Ciao a tutti, oggi mi voglio sporcare le mani E' impilotabile Sono tutto picchia, non vado a distaffare Voglio fargli perdere di quota o va giù, ma va giù Passaggino No, non si pilota, fa tutto lui In realtà si sta divertendo, ma non lo ammette No, no, perché picchia non va avanti E io sono tutto picchia adesso Cosa serve andare veloce? Sono tutto picchia Non riesco a fare una snider, guarda, non la metto in virata E lui la fa piatta Ma a cosa serve fare? Ma diventa più pilotabile perché così tu in realtà hai un intervento sul pilotaggio che è nullo Cioè disimpari a pilotare questa roba qua Non hai il manuale? Non hai il manuale? Sì Bacca roba Va bene da Non hai il manuale? Non hai il manuale? Non hai il manuale?